Oggi brutta giornata, io te la dico, ti avviso subito, avrai poco da saltare Deadrun, ovvero cosa che non ti piace Ma ho letto qui Troll, ovvero seconda cosa che ti piace Benvenuti nella troll run, Stef, non mi piacciono i troll, a me non fanno ridere i troll Allora, è famosissima questa mappa, credo che la stia facendo un po' chiunque, ne siamo un pochino in ritardo Fede, quindi dobbiamo chiedere scusa e facciamo così, guarda, questo qua è il nostro voto Quanto è? Scusa, non l'ho visto Proprio la sufficienza, giusto giusto Perché stavo pensando qualcosa di bello da fare, ma non lo so Non è fatto nulla Faccio una capriola, Stef Ma non è per chiedere scusa, comunque siamo in ritardo con questa mappa Dovrebbe essere una tortura cinese, quindi vi divertirete a vederci impazzire Qua livello 1 non sarà il vero livello 1, chi chi chi, e invece è sempre livello 1 Sono morto Ma allora forse dobbiamo andare lì dietro, ma lui in realtà ci vuole far pensare che noi dobbiamo andare lì dietro E invece dobbiamo andare tipo dietro il cartello, dietro il cartello No, 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 questo è tutto per farci pensare Vedi? No, no, è qui, è qui, è qui, c'è qualche passaggio segreto Dice di camminare Ah, passa attraverso la sinistra? La parte sinistra Sì, ma non funziona Ciao, Stef Ciao, Fede Lo so che hai guardato un video, quindi è inutile che cerchi di fare un'altra cosa Non è vero, voglio provare a fare una cosa, aspetta Io non so come sono morto Ti rendi conto? Ce la faccio? Zitto, 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 zitto Ce la faccio Ce la faccio È andata È andata, Stef Questa cosa è leggendaria, Stef Fede non è leggendaria Alla storia Alla storia E soprattutto hai realizzato che la cosa che c'era dietro il cartello all'inizio Che diceva di stare alla sinistra era il suggerimento per fare il livello 1? No, vero? Perché Fede è poco intelligente No, però ovviamente, Stef, io ho pensato, sono le trappole di sotto, passi sul border Anche ovvio Ma non è vero, abbiamo guardato il tutorial Io provo sempre a fare Ma tu, innanzitutto, tu l'hai guardato, prima cosa Seconda cosa era ovvio Sono le cose che si provano sempre Non è vero Vergogna Sono le cose che si provano sempre con le trappole Le provo sempre, io che cito Ora vado senza di te, addio Fede, tanto non si può fare Certo che si può fare Ogni livello non si fa nel modo in cui pensi, vedi? Ti hanno ucciso, vero? No, ci sono delle sentinelle Sono le sentinelle che mi hanno ucciso Non muori da caduta Ti ucciscono le sentinelle Eh, sì, lo so Però dico, il parkour non fa farlo Quindi dobbiamo ammazzare le sentinelle Pronta? Io questa, vai Abbiamo sbagliato il tempismo, sapilo No, no, ce l'abbiamo fatta Ok, ma adesso Qui, 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 qui Preccia la strada No, no, non è bloccata Salta, ti prego Perché ci sono le sentinelle Siamo salvi? Oh, che paura Non lo so, probabilmente è una trollata Ho capito il naso No, 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 no La trollata è sempre il modo iniziale La gente ha poca fa Aspetta C'è un checkpoint Sono troll? No Ok, sì, siamo sicuri di aver preso il checkpoint Io sta roba non la so fare Steph, help me, please Cosa c'entrava in mezzo? Non capisco Bravo, Steph, bravo Adesso? Aspetta Cosa appena ha detto? Pere? Boh, ha detto Non ho capito la domanda Cioè, sei caduto per la seconda volta No, è la prima E dice Vai attraverso la trappola lì Mi sa che la quarta trappola alla destra Era una cosa dove potevamo passare Dobbiamo fare respawn, Pere Cioè, questa è tutta una trappola, capisci? Sì, ho capito il senso adesso L'ho capito Sei contenta, Pere? No, per niente Che bello Sarei potuto scendere da solo e scoprirlo? C'è un checkpoint Che magari poi te le triggero Io ci passi tu Pere, non ho problemi Sì, 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 sì Vabbè, così non faccio qualcosa di utile Fatto il primo tentativo Livello 4 di 15, Steph Eh, esatto È quello che ti volevo dire anche io No bueno, no bueno Usa la rampa allo start per saltare Nella piattaforma behind the checkpoint Quindi dietro il checkpoint Qui, qui sotto Quella, quella, quella Così Esatto Quindi Aspetta però, eh Perché qua non ci possono essere passaggi segreti Per come è fatta Ma qui non c'è niente, Steph C'è solo un po' Ma c'è una mini chest minuscola Rampino Vabbè, arriva Vedi, vedi Alla fine te lo fa fare E poi serve lì il rampino? Non lo so No, forse è per qua Forse è per qui No, Steph Qui non c'è nulla, capito? Ok, sì, sì, sì Trovate Il problema era quello Che qui non c'era nulla Ok, ovviamente ci toglie anche i rampini Dai, ma ho preso proprio il 4 Dovevo prendere Ok Che bella fine che sto facendo oggi Guarda le mini chest Che belline Livello 5 Adesso dove devo andare, scusami Da tutto dall'altra parte Ah, comprendo, sì Se l'hai pensata bene Carina, i livelli sono fatti davvero bene Sì, a parte che ci rimaniamo 6 mesi Vabbè, ma quello è normale Allora, praticamente Beh, tanto devi sempre ragionare che il livello non è il livello giusto, quindi Praticamente devi sbagliare di proposito il secondo salto Perché devi andare giù È giù la vera strada Ok, ok Non riesco a fare neanche il primo Basta che salti Ah Ma puoi sbagliare fino a subito Il problema, ok Adesso? Non ho preso il ghiaccio, quindi Ce l'ho fatta Livello 6 1 Steph, aspetta 2 Beh, nel mentre lo osservo Tanto non è nulla di difficile lì No, devo cadere qui, devo cadere qui Allora, dice di prendere il ghiaccio E poi di entrare dentro quelle trappole Ma è più facile senza ghiaccio, scusami, eh Ghiaccio? Ma mi sta trollando Fare qua c'è un troll brutto, eh Quindi se riesco almeno a scoprire il troll prima che arrivi È qualcosa di utile, secondo me Allora, ti dico il troll adesso No, Steph, mi sto innervosendo No, è meglio aspettare che finisca il ghiaccio È molto più semplice Che casino Siccome i muri invisibili possono essere soltanto dove ci sono delle trappole Secondo me uno di questi tre muri è finto E come fai a capirlo? Ma dato che appena prendi il ghiaccio fai giù dalla montagna Scivoli, è possibile Bisogna andare dritti su un muro Io provo quello di sinistra Ah no, aspetta, ok, basta rallentarsi e non finisci giù Ok E quindi a quel punto aspetti qua sotto Vai proprio saltando dritta su uno dei due Ma no, sta... Destra non è? No Ti blocco? Ma forse non lo so, non vedo niente Per forza Fidati, è troppo difficile l'altro Ok, è quello che sta esattamente dietro Quindi sali tutta la rampa e saltali indietro Ok Oh, meno male, avevo ragione Cioè, giù ho visto una roba che era troppo difficile Quindi avevo capito che qualcosa ce l'ha di nascosto Oh no Ditemi che anche questo è finto, vi prego Dai, non riesco a farli a queste robe col ghiaccio Vi prego, io non so fare i bouncer, lo sapete Tante cose mi potete chiedere, ma non i bouncer Allora, devo andare qui No, non dirmi che si può fare Sì, si fa, si fa È anche abbastanza semplice, l'ho fatto al primo tentativo Devi strisciare bene su sto muro Ecco fatto, vedi, vedi che non è difficile Occhio alle trappole Ah, vai prima tu Mi fa venire l'ansia Ok Sono morto Peri ha scoperto il segreto finalmente Allora Nooo, perché sono andato Devo andare in quel muretto e poi andare in quel buco Quindi invece che fare tutto il giro Devi fermarti in quel muretto e andare Eh, scusa, infatti lo sto facendo da due ore E poi ho pensato Scusa, ma nell'ultimo bouncer vai sempre storto E quindi risulta complicato Vuoi vedere che riesci a farlo col muretto? E infatti Il problema è che Steph continua a morire all'inizio da due ore Sto impazzendo Ma perché non ci riesci? Vai avanti da sola Ti inizia a cercare soluzioni di quello dopo Vai Ti prego Steph, non cadere Yes Fede aveva detto che era qua Ok Porta, porta, porta Opla Se qui tutto dritto non c'è niente Ah, livello 8 Allora Steph Fermo, 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 fermo No, lì devi staremi fermo Io sono arrivata alla fine del labirinto C'è una scritta, ok? Sì Allora, devi praticamente andare dritto Sì Dallo spawn Sì Quindi nelle scale Dove sono le scale? Queste Poi fai, penso, due passi a destra To right Steph, capisce Ma qui? Fede su Non devi salire Non devi scendere le scale Allora le devi superare Dice supera le scale Vai a destra Rivai a destra Ma poi Steph, scusami Non sono, non sono scale Vieni È una rampa Lo so E qua c'è il blocco invisibile Eccolo qua, sì, sì, sì Ok, quindi completato Livello 9 Congratulazioni a tutti Addio Fortuna che ho trovato subito l'indizio, guarda Pistola, fumogeno, slurp, ballerina e medikit Cosa ci dobbiamo fare? Ho detto di prendere uno di tutto perché ci serviranno Qua dovrebbe essere fattibile Sì Però com'è che si va sopra? Il problema è quella, Steph È così fare, da qui Da questa colonna con la pistola Poi spari con la pistola Ma tanto è troll, quindi Non sto facendo per nulla Ok Ma guarda, è tutto abbastanza semplice Questo è difficilissimo E infatti si scoprirà che è troll Però io mi guardo intorno, quantomeno Non noto altro Ah, non riesco a farli questi salti, è il contrario Eh, non è proprio La cosa più scontata del mondo E infatti sbaglia l'ultimo Guarda, però è meno male che ho controllato un video perché davvero Cioè bisogna tornare indietro Come tornare indietro? Sì Perché? Perché è un trollerino Cioè stavamo facendo quello da due ore e mezzo Qua Vieni, 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 vieni No, c'è da dire che stiamo Stiamo venendo trollati perché non so fare questi salti Allora, già che qua ci sono delle trappole dietro di me Mi fa ben pensare che questa cosa sia completamente inutile Comunque, come sempre proviamo Scopriamo e poi Andiamo avanti Allora, no Usa il primo cannone per sparare te stesso Dietro le trappole Dice, hai bisogno di colpire dietro nella trappola di sopra Nella parte a sinistra Ah? Vedi che non è molto comprensibile come spiega La cosa bella è che se finisci un livello poi ti dà la soluzione Vai Ok È giusta? Sì, sì Quindi non si è capito cosa stavi dicendo Esatto, vai Mi puoi dire nella trappola centrale dietro di te? No, non lo puoi dire Sono morto Come è possibile? È bello grande Perché la parte di sinistra della trappola Ho capito adesso cosa intendeva Che la parte di sinistra ti uscide? No, la parte di sinistra è dove passi della trappola La parte di destra c'è un muro Qua l'intendeva Ok, ok Undici Io vado a cercare sotto un passaggio segreto Vai, bene Lo dico già Io cerco come sempre i fini livello così almeno abbiamo poi l'indizio Non c'eri neanche vicino Usa l'impulso per saltare to the miscolored block È quello che stavo facendo Nella stanza, nel muro alla sinistra Quello che stavo facendo You need to impulse of solid ground Quello che stavo facendo, infatti ti ho detto che poi non puoi fare l'impulso negli altri blocchi Vede Guarda la parete di sinistra Ah, vabbè, basta Stef Non l'avevo vista Aveva senso quello che stavo pensando Ho pure sbagliato Quindi come ci arrivo? Tipo da qui? Eh sì No, da qui non fa Eh sì che fa Io sono andato troppo alto Da qui? Sì Anche tu troppo alto No, io l'ho fatto Maledetto Boom! Non l'hai fatta Hai sentito? Come un proiettile Livello 12 Quindi cosa non dobbiamo fare adesso? Devo di nuovo finire il livello per scoprire cosa non dobbiamo fare Tu inizia a investigare Esatto Grazie Io vado a cannone Qui c'è un blocco strano Stef L'ho già trovato Post Guardalo È l'unico diverso Trova la soluzione Ma anche lì su c'è un unico diverso Oh cavo No, sono tanti Sono tanti blocchi diversi Eh, stavolta è tosta Davvero non sei molto bravo in questo Lo so Lo so Lo sappiamo Come tu non sei bravo in inglese Vai nella griglia Fatta di blocchi viola Nel muro Opposto a questo Quindi Questo Questa qui Sì Secondo me sì Stand about a block in front of it And throw an impulse in the bottom mid tile Non mi è chiaro E per di più comunque serve l'impulso Quindi serve comunque a far tutto Oh mamma mia Molto molto bene Dove devi mirare? Il Quello basso centrale Però forse vuole che miro più in fondo Tipo così Sì Ciao bellissima Più in fondo come? Così? Aspetta fare Sì Se non senti nulla vuol dire che non torno fino a quando non mi stupi la mia Steph oggi non mi spuoni Ti ho già detto che quel gioco è buggatissimo Ne hai ancora una giusta? Sì Non usarla Devo far esplodere la mia Di sicuro non deve respawnare Ah ok Hai ragione Hai ragione Che ansia Mi stai facendo il mare al cuore Steph Oh Falla esplodere Fatto E adesso quindi come la devo tirare? Basta Ce l'hai fatta? No Perché? Mi è partita l'impulso Fere stai scherzando Stai scherzando Fere? Allora Scillini Oh cavolo Siete impazziti voi? Siete impazziti Ah ma c'è una pistola Allora non è un problema Ok Quanti di voi devo ammazzare? Tanto lo so che è tutto inutile Però almeno quando c'è da killare Mi faccio meno problemi Ma che livello è? Ma che ne so Ah 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 Io ti odio Non ho mai capito un livello senza dover sbatterci la faccia Ho colpito qualcosa Ok un'altra palla a cricetto E ora? E ora beh Non dovrò passare lì in mezzo con la palla No non ci posso passare quindi no Allora qui Io ho preso questo spawn In realtà Ah sì Qua Ultimo livello fare Perché quello segreto non conta Giusto? Non lo so No non conta Cioè Sono gli extra Per i nerd Per chi ha voglia di Per chi non sta morendo di fome Perché sono le 2.20 Capito? Finito Oh mi è arrivata in testa Dritto in testa Mi è arrivata la palla da cricetto Steph È stato bellissimo No sto arrivando Steph Non hai finito Arrivo Non so Come esprimerti la parola Chiedo un po' di comprensione Da parte dei consulini Con i supporta creator Steph 2317 Nello shop Che dura solo 14 giorni Che non ripagheranno ciò che è appena successo a Steph Che è successo? Però almeno fatelo Si è tornato a livello 1 E c'era una trappola bucata Vabbè Finito così Steph Finito così Noi abbiamo completato tutto La mappa è completata Io sto Sta roba non riesco a farla Come hai fatto a entrare dentro sto buco Steph Ma lo spieghi? È un casino Comunque Ce ne andiamo a pranzo Esatto Grazie per averci trollato È stato Bello Piacevole Divertente Sapevo che era una tortura di video Però non mi aspettavo così tanto Devo essere sincero Vabbè ovvio Un troll Non ti aspetti mai che possa andare peggio di quanto ti aspetti Ma va sempre peggio di quanto ti aspetti Speriamo che vi abbia fatto divertire Per noi non l'ho stato Qua sotto come sempre per altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao